A tutto campo, dalla riapertura delle scuole vaccini alle misure economiche, il giorno dopo il vertice europeo, il Presidente del Consiglio Draghi traccia un bilancio in chiaro-oscuro. Si parte dalle scuole che riapriranno dopo Pasqua fino alla prima media, anche in zona rossa. Si conferma la decisione di riaprire fino alla prima media. Il Ministro Bianchi sta lavorando perché questa riapertura avvenga in un modo ordinato. Ma il Paese resta di fatto chiuso ancora per tutto aprile se i contagi non calano. Allora il capitolo vaccini Draghi esclude il blocco delle esportazioni dall'Europa verso altri Paesi, anche se, ribadisce, la linea dura contro le case farmaceutiche che non rispettano i contratti. Insomma, qui c'è in gioco anche la salute degli individui, la vita, la morte. Quindi noi dobbiamo sempre cercare il coordinamento europeo, dobbiamo far di tutto per rafforzarlo e poi se non si vede una soluzione è chiaro che dovremo cercare altre strade. Draghi, che si vaccinerà con AstraZeneca forse la settimana prossima, annuncia la mano dura nei confronti degli operatori sanitari Novax, pronto un decreto con sanzioni. Conferma invece sull'assegno unico per i figli di 250 euro con maggiorazione per i disabili che parte dal 1 luglio.